Cari amici e cari amici, mi sono accorto che nel video precedente l'accenno alle caste è stato veramente troppo sintetico. Siccome questo è uno degli argomenti più scottanti da un certo punto di vista e più malinterpretati, qui in Occidente ho deciso di riprenderlo di fare un piccolo approfondimento. Le caste, nella società tradizionale, prima di definire una distinzione tra i vari raggruppamenti sociali, definivano una differenziazione delle funzioni, ossia ogni persona viene al mondo con delle tendenze che sono poi i suoi modi tipici di agire ma soprattutto di essere. E la corrispondenza delle possibilità naturali fondamentali di ciascuna persona relativamente a queste tendenze, a queste funzioni, determinava la sua appartenenza di casta. Quando si apparteneva poi a una casta, si avevano tutta una serie di doveri che erano tipici di quella casta. Facevo l'esempio di Krishna che invita Arjuna alla guerra, proprio perché Arjuna è un guerriero. Ma attenzione, Krishna non avrebbe mai invitato alla guerra un appartenente a un'altra casta, perché per Arjuna fare la guerra, essendo un guerriero, è una via di realizzazione. Per una persona appartenente a un'altra casta sarebbe stata un'operazione di bassa macelleria, un'operazione di violenza. Di conseguenza, esplicare la propria natura all'interno di una casta era realizzarsi individualmente e creare armonia nell'ordine complessivo. E secondo la prospettiva ecoliana, ad esempio, è proprio questo il criterio che ha permesso alle società tradizionali di mantenere un grado di stabilità interna che si è prolungato nel tempo. Invece poi il superamento di questi principi e soprattutto la degenerazione del concetto di casta, quando invece diventa una sorta di abuso poi di di potere, ecco, e dunque il trapasso dai principi originari alla sua degenerazione crea invece l'instabilità. E Evola ci dice che nel mondo tradizionale le caste erano considerate la norma. Perché? Perché ognuno si realizzava nell'ambito della propria casta, aveva questa possibilità di realizzazione. E quindi ognuno sapeva che, svolgendo il suo ruolo all'interno della sua casta, partecipava all'ordine sociale collettivo. Ma non c'era una condizione di ingiustizia sociale e sopraffazione all'interno delle caste. Così l'uomo della tradizione era chiamato proprio a riconoscere la propria vocazione di casta, potremmo dire, senza entrare nella prospettiva di superiorità e inferiorità a seconda del caso, se si è sacerdote, se si è guerrieri, se si è lavoratori. Non era un discorso di superiorità o inferiorità. Questa è l'interpretazione moderna al concetto delle caste. Lì si trattava di inserirsi in maniera armonica, in maniera organica al contesto sociale nel suo insieme. E ogni violazione rispetto a quest'ordine sarebbe stata dettata da un'ignoranza di ordine metafisico, però. Perché era quest'ordine metafisico e questo senso sacrale che sottintendeva all'ordinamento sociale tradizionale. Così un'ignoranza relativamente alla propria casta, in primo luogo riguarda la mancata conoscenza della propria natura specifica e delle proprie tendenze specifiche. E vi vado a rileggere questo breve brano di Pannikar, Raymond Pannikar, che è stato un grandissimo uomo, morto poco tempo fa. È stato sacerdote cattolico, poi ha continuato comunque la sua attività di teologo, conosceva perfettamente la filosofia occidentale, orientale. È stato un grande uomo di compassione, un grande portatore di pace. Eppure, sentite cosa scriveva proprio di suo pugno rispetto al valore delle caste, inquadrato ovviamente nel giusto contesto della società tradizionale. Perché, ripeto, se parlate di caste alle persone, immediatamente si associano vocaboli come sopruso, ingiustizia, sovraffazione, violenza. Sentite cosa scrive Pannikar. Allora, circa il valore delle caste, l'adempimento dei doveri della propria casta, significa il cammino sicuro verso la salvezza. Che poi questa salvezza non la si possa raggiungere in una sola volta, o che si debba passare attraverso le diverse reincarnazioni fino al conseguimento della salvezza finale, non toglie valore, a ciò che ho detto. Ossia che la fedeltà alla casta determina in chi crede il concretizzarsi dei propri doveri e ne giustifica l'esistenza. E dunque, da questo punto di vista, vediamo che la visione che propone, l'interpretazione che dà Evola, corrisponde esattamente all'interpretazione tradizionale. Ripeto, Pannikar è un indiano, anche se ha vissuto in Occidente per molto tempo, e conosce perfettamente la religione, sia il Sanatana Dharma, insomma diciamo l'induismo per semplificare, che la religione cattolica, come conosce perfettamente la filosofia e la storia della filosofia orientale e occidentale. e quindi inquadra il senso delle caste come una realizzazione darmica all'interno del contesto sociale. Dunque, ricapitolando il quadro hindu, il sistema delle caste, per quanto sia un sistema piramidale, ha una sua particolare articolazione, per cui il potere politico spetta agli shatria, cioè ai guerrieri, mentre i sacerdoti e i bramani rappresentano l'origine del potere dei guerrieri anche. e il sistema delle caste è esattamente come i cicli cosmici, soggetto a una degenerazione interna, soggetto dunque alla irrefrenabile usurpazione dell'esercizio del potere da una casta all'altra. Ma questa è la sorversione, tant'è vero che Evola chiama questo processo regressione delle caste, e che è una delle tesi centrali dell'intera idea di tradizione. E allora questo è l'elemento importante. Come nelle quattro ere, dall'età dell'oro si passa all'età del, progressivamente, c'è una degenerazione fino all'età del ferro, quindi dall'età dell'oro si passa, in termini orientali, al kalyuga, e c'è una degenerazione progressiva, perché c'è un allontanamento progressivo dal principio originario, e la stessa cosa vale per le caste. Le caste che avevano una funzione armonica all'interno sociale e che aiutavano la persona a realizzarsi individualmente nel contesto collettivo, nella loro degenerazione, diventano giochi di potere, diventano sovrousi. Ma questa è la sovversione delle caste. Non è l'idea delle caste che troviamo poi nei testi sacri. E così, come la storia, a partire dai tempi, potremmo dire, preantichi, è un progressivo allontanamento nella prospettiva ciclica dal principio originario, e quindi comporta una continua degenerazione, stessa cosa vale per il sistema delle caste e per l'ordine sociale, che insieme a questo processo di allontanamento dal principio originario, degenera e non è più ordine arrivato a quel punto, diventa sovrouso, e quindi disarmonia sociale. E da qui il conflitto e la lotta tra caste. E questo fa parte, dunque è strettamente collegato, la concezione delle caste, alla dottrina dei cicli cosmici, degli yuga. Poi, nello schema di Evola, è molto complesso quando lo studiano anche Kokomara e Svami, parlo di macrocicli, microcicli, questi quattro cicli che si ripropongono all'interno stesso di un ciclo, insomma è molto 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 complesso. Però c'era un'era dove, a reggere le sorti politiche, avere il potere politico, c'erano i rappresentanti della regalità divina, che riunivano i poteri, quello che Evola chiama verilità spirituale, o in altri, mi sembra proprio come rivolta nel mondo moderno, la sovranità olimpica. Erano i re sacerdoti. E a questo, dal punto di vista del potere, al potere dei re sacerdoti, subentra successivamente la casta dei guerrieri, poi la casta dei monarchi, e piano piano ci sarà il crollo delle aristocrazie, sempre, man mano che vanno avanti i processi degenerativi degli yuga, e subentrano alla fine mercanti. E questo è il caso dell'Evoca che stiamo vivendo, perché dalla rivoluzione francese in poi, non è un caso che è esaltata da tutti i modernisti, la rivoluzione francese come elemento di libertà, invece, dal punto di vista tradizionale, è proprio l'inizio della fine, l'inizio della sovversione, il trionfo dei principi sovversivi, sorretti da ideologie liberali e democratiche. E quindi, quelli che erano gli antichi valori dell'onore e della fedeltà, cedono il passo a quello che Guénon chiama il mondo della quantità, ossia tutto è ridotto a quantità, a quantificazione economica, a calcolo numerico, all'utile materiale. Ma anche questa situazione passerà poi. E attenzione, perché? Perché man mano con questa degenerazione non si può liquidare la filosofia della storia evoliana in favore di una concretezza storica propriamente detta, nel senso che Evola ci parlava di comunismo, di socialismo, come gli elementi di degenerescenza di fine Kali Yuga e lui viveva in quel periodo lì. E non si può liquidare Evola dicendo beh, questo è passato, adesso, e quindi non è più valido il ragionamento rispetto alla fine dei tempi. No, assolutamente no. Perché quando Evola parla di avvento del quarto stato e dunque della casta inferiore, si riferisce a un tipo umano, non è che poi parla di comunisti, sì, ma si riferisce in realtà essenzialmente a un tipo umano, il tipo del quarto stato, e dalla caduta del muro di Berlino con il trionfo delle ideologie liberali, e questa tipologia umana trova proprio la sua piena affermazione, il pieno sviluppo più coerente di quanto si potesse immaginare rispetto anche agli anni del socialismo reale, perché qui è il periodo proprio del liberismo dove tutto è monetizzato, tutto è moneta, gli antichi valori sono definitivamente cancellati, ora si nega anche il valore della famiglia, del padre e della madre, l'ideologia gender e così via, e quindi c'è un'affermazione della blob, del tutto uguali, tutto uniforme, e questa è la tipologia dominante della fine dei tempi. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo